Diversi dal comune, non c'è dubbio, ma assolutamente abili a raccontare quello che gli altri non sono riusciti a fare, almeno sino adesso. Qualcuno ha detto che la vita va presa come viene raddrizzata e così hanno fatto loro, un po' per gioco, ma soprattutto per passione. È la storia della Potipicture di Arezzo che con i suoi lavori è riuscita a girare numerosi festival internazionali. Ho sempre sognato di entrare nella storia tra i grandi dell'umanità. Io avrò un programma televisivo tutto mio e le reti pagheranno un sacco di soldi per avere. Un sacco di soldi, altro che storia. Come se è la storia di Ilaria Bidini, un'eroina speciale nella docu-fiction che ha vinto una decina di premi e numerose menzioni. Nella vita Ilaria combatte tutti i giorni, non tanto con la sua malattia, ma con le barriere architettoniche e mentali. Attori e attrici, comparse, tutte persone diversamente abili. Paura, paura, paura. Credibilità. Il sogno della Potipicture è fare un vero film, fare un vero film e dare l'opportunità ai nostri ragazzi di varcare veramente le soglie di festival internazionali importanti. Siamo abbastanza presuntuosi, però abbiamo visto che a volte veramente i sogni si avverano davvero.